Ciao, sono tornata con un altro video perché volevo farvi vedere la BB cream di Garnier. Io vi ammazzo chi mi manda le notifiche. Una parentesi, apri una parentesi, chiudo la parentesi. E mi è arrivato i campioncini che ho richiesto sulla pagina di campioncini in omaggio. L'avevo richiesta forse o a settembre o prima dell'estate. Ora non mi ricordo perché l'avevo chiesto in un giorno che ero al corso di segreteria che ho fatto. Mentre il professor sta spiegando, tanto quello non capirò, ma c'è qua. Eccoli i campioncini, i due campioncini, uno medium e uno... Uno medium e uno light. Ora li proverò e vi farò sapere come se mi garbano o no. Quindi infatti li volevo pigliare il barattolo grande, uno di questi. Però non sapevo quel colore, poi se sbagliavo mi arrabbiavo. E nulla. Questo mese non ci saranno i prodotti finiti. Perché non finiti più tre e basta. Però ci sto mettendo a ridaglie. Ora se mi casca il cellulare mi arrabbia. Tanto. E nulla. Prima che mi casca il cellulare finisce qui il video. Vi mando un grandissimo bacio come sempre. Saluto come sempre Lizzi, Federica e nessun altro. E tutti voi che mi seguite. E ci si vede al prossimo video. Ciao. Ciao.